Amici del pit stop buongiorno, rasegniamo la perfezione, bambalino con la porchetta Anche a noi è arrivata Gianni, perché io e Maudini siamo tra i tuoi cari, a te non danno Quanti sono Ciccia? 55? 55? Azzò compagno, a vecchio, non problema ragazzi, adesso ve lo facciamo vedere Che commento fai? Che te devi commentare? Non lo so Rasegniamo la perfezione